Mi sembra molto interessante questo comporre e ricomporre, nel senso che si pensava che la Seconda Repubblica fosse consolidata e invece mi sembra di capire che ci sia una destrutturazione in entrambi i poli. In questo momento sta soffrendo molto il centrodestra, soprattutto il PDL con il suo leader, ma anche la Lega nelle ultime elezioni amministrative è stata messa un po' all'angolo dal suo elettorato. Per cui soprattutto al nord c'è anche una potenzialità di una nuova offerta politica e allora bisogna un po' cercare di capire dove si vuole andare a parare. Io credo che sia molto interessante parlare di contenuti, ormai l'elettorato è molto attento ai contenuti più che ai contenitori e quindi io credo che questi lunedì siano fondamentali e importanti per cominciare a riparlare di politica, soprattutto nelle aree più dinamiche del Paese che soffrono la crisi economica ma hanno anche tutte le potenzialità per poter stare al passo dell'Unione Europea.